Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ryan Italy Channel Oggi ragazzi, finalmente, finalmente, oggi ragazzi vi volevo parlare della mia, diciamo, con un po' di ritardo Un po' di ritardo, tra virgolette, come sempre, purtroppo, scusate ragazzi Della mia sintesi partita di Italia-Germania e della prossima partita che farà l'Italia Allora ragazzi, io volevo assolutamente fare questo video Perché intanto io avevo visto la partita Italia-Germania, scusate se la live non sono riuscita a farla tutta Ma perché era a casa di mia nonna e poi dopo da casa di mia nonna mi sono dovuto trasferire a casa mia E non ho potuto, diciamo, fare tutta la live Cioè, e quindi un breve pezzo l'ho dovuto staccare Ma tanto io sono andato a casa mia quando c'era tipo l'intervallo, quindi niente Poi dopo la fine sono riuscito a fare la live almeno un secondo tempo E io ragazzi, sia nel primo tempo e anche, ma di più secondo me, nel secondo tempo Ho visto una gran bella Italia Ma quando dico gran bella, veramente gran bella Perché finalmente il nostro Mancini si è deciso di darci retta e di mettere dei nuovi giocatori Era questo che io volevo Questo, questo è quello che volevo dal nostro Mancini Era questo quello che volevo dal nostro Mancini Perché finalmente Mancini si è deciso di fare questa cosa qua E io sono veramente, ma veramente fiero di questa cosa Perché finalmente si è, si è, si è, si è, finalmente ha deciso di, 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 diciamo, di fare questa cosa qua Finalmente, perché lo aspettavamo da tanto E ho messo dei nuovi giocatori Per esempio i ragazzi in Gnonto Con il giocatore lì, quello di colore, quello nero È veramente un giocatore veramente bravissimo Bravissimo quel Gnonto lì È veramente un giocatore che mi piace molto, mi piace molto quel, quel nero lì E poi dopo c'era anche, ah, Cancellieri Anche quello che gioca nel Verona Se non mi sbaglio Che anche io gli ho abbastanza Sono giovani e forti, quello è il bello Poi Mancini ha messi anche altri due Che non so chi sono, che sono sempre della Nazionale Italiana Cioè, quelli un po' più piccoli Un po' più, diciamo, Under 21 Quelli un po' più piccoli E io veramente, ragazzi, sono veramente contento Perché sono contento per Mancini Che finalmente, cioè, questa è l'Italia che io volevo E questa è l'Italia che io volevo E finalmente sono contento che, diciamo Mancini si è deciso Si è, si è, ha deciso di ascoltarci E finalmente si è deciso di ascoltarci E questa cosa qua a me piace molto Perché finalmente lui ha deciso di fare una formazione forte E che corrono Per esempio, Scamacca Durante la partita Italia-Germania C'è lui un giocatore che mi piace, Scamacca Cioè, non è che sia un giocatore che faccia schifo Però, c'è lui Io pensavo, io mi aspettavo qualcosa in più di lui E però purtroppo alla fine Cioè, non è riuscito nemmeno a fare un gol Cioè, però la palla Diciamo, ha corso sulla palla Però, mi aspettavo qualche tiro, qualcosa Però, vabbè Non ha tirato, però è stato bravo anche lui Cioè, non era stato Il solito Scamacca Però anche lui è stato bravo Cioè, diciamo che ha coperto un po' la palla Non mi aspettavo qualche tiro da lui Però In compenso Cioè, diciamo che Ha coperto la palla Cioè, ha corso soprattutto Ha coperto la palla Ha coperto la palla e ha corso E poi ragazzi Niente, stasera ci giocherà Italia-Ungheria I molti magari pensavano che l'Ungheria Fosse, diciamo, una Una nazione di calcio Che magari fosse, magari Avesse magari una trappola Per fare cadere l'Italia Ma penso Ma penso di no Ma penso di no Perché visto che loro avevano battuto L'Inghilterra Magari qualcuno avrà pensato Ah, attenzione C'è l'Ungheria Che ci potrebbe battere Ma no Secondo me lì è stata Fortuna Cioè, no Non è che è stata Fortuna Cioè, loro si sono impegnati Però, secondo me Cioè, secondo me faranno un po' di fatica Voi che cosa dite? Niente ragazzi Cioè Io sono veramente contento che Mancini si è Si è deciso Ad ascoltarci Darci retta Vi ripeto di no Questa cosa qua Per dirvi che io volevo dire Assolutamente queste cose qua In questo video Perché finalmente Mancini Ci ha dato retta Questa ragazzi È l'Italia che io voglio vedere È questa L'Italia che voglio vedere Non la solita Di 200 anni Con gli stessi giocatori Chiellini e Bonucci Ormai quella gente Li deve andare Deve 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 andare Deve andare Deve andare a ritirarsi C'hanno 37 anni In tutto Bonucci ne ha 35 Chiellini ne ha 37 Eh Scusate Cioè, vabbè che saranno anche bravi Però non è che li puoi tenere Per Stavo dicendo Che Chiellini e Bonucci Non è che li puoi tenere Per tutta la vita E poi ragazzi Vi volevo anche dire Quest'ultima cosa qua Secondo me Ragazzi Della partita di stasera Italia L'Ungheria Come vi stavo dicendo Secondo me Magari molti pensavano Forse magari potrebbe essere Una trappola Per l'Italia Eh Volevo dire infatti La definizione giusta Trappola Secondo me Però Cioè Secondo me Secondo me no Cioè Non sarà una trappola Cioè Perché L'Ungheria Secondo me farà 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 Secondo me farà Un po' Farà fatica stasera Secondo me A vincere contro l'Italia Perché magari Quello che pensava Ah ma potrebbero anche Batterci facilmente Se ha dato la paga All'Inghilterra Sì ma Secondo me Non ci fanno cadere Nella trappola Ecco Come si può dire La definizione giusta Sì Non ci fanno cadere Nella trappola Secondo me no Se magari qualcuno Anche se magari Qualcuno pensava Ma magari potremmo cadere Nella trappola Dell'Ungheria Come si può dire Ma secondo me no No Secondo me no Cioè Secondo me Cioè Tutto può succedere Nel calcio Certo Però Cioè Tutto può succedere Nel calcio Certo Però Secondo me Faranno 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 Un po' Fatica A batterci Niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Qua sotto Per vedere Altri video E noi Ci vedremo In un prossimo Video Ciao